non ricordo più come fosse guardare le cime degli alberi spogli e scorgere solo rami ma conosco ciò che avverti Thompson trapassare il diaframma tra visione e modello il baratro liberatorio della scoperta ognuno in proporzione sua l'equilibrio immobile delle sere agostane quando mi convincevo a credere e credevo filmando l'aria e lo grigio che tutto nella sua perfezione fosse fermo così sono io l'occhio e il mirino grazie a tutti